ciao a tutti ragazzi bentrovati sul mio canale come sempre se non l'avete fatto ancora iscrivetevi se vi piace il video mettete un like e se volete seguire i miei contenuti in continuo selezionate la campanella in modo che avete le notifiche oggi un video un po particolare perché sono a casa domenica 20 novembre e sono a casa e non ho nulla da fare quindi mi sono messo a dare una sistemata il bagno del camper oggi volevo farvi vedere i lavori che sto facendo al bagno quindi è solamente praticamente il rimiancamento del pavimento del bagno che era un po rovinato quindi oggi mi sono dedicato a questo ma prima di fare questo mi prendo un caffèuccio un caffè borbone rosso capsule in espresso e almeno così vi faccio vedere in funzione la macchinetta dell'espresso che ho e che tipo di caffè tira fuori accendiamo vedete un po di movimento leggero dei led perché il cavo praticamente il vecchio cavo che fornisce la corrente al quadro era ancora da due millimetri e mezzo ho lasciato quello perché va a servire solamente il led i due led sopra quindi non ha nessun tipo di assorbimento particolare adesso mi faccio un buon caffè e poi iniziamo un po d'acqua e anche a riguardo del fatto dell'acqua nel camper farò un video dove dove praticamente farò vedere l'installazione di un filtro depuratore è un filtro depuratore che ho acquistato su amazon dovrebbe essere un 0,5 micron e anche antibatterico perché diciamo anche una funzione antibatterica verrà installato qua direttamente sotto al lavandino sulla mandata dell'acqua fredda in modo tale che potrà utilizzare direttamente l'acqua delle acque bianche il contenitore delle acque bianche per per bere per usarla per il caffè quindi quando installerò questo video farò un video anche al riguardo per ora ci prendiamo un caffè come vedete ho acceso anche il riscaldamento perché voglio far scaldare bene le plastiche del bagno in modo tale che che siano calde quando le vado a verniciare lo ha già sgrassate e ora procederò a dargli una mano di vernice la prima mano questo è il caffèuccio non so se si vede ma è una bella cremina ora bevo questo e cominciamo i lavori vediamo che tipo di vernice utilizzo io utilizzerò questo tipo di vernice qua questo per il nero è praticamente comprato da bricofer quindi è una vernice all'acqua semplicissima che però ho già utilizzato diverse volte mi sono trovato molto bene perché anche per il lavandino addirittura è più di un anno che non si è neanche rovinata questo è il bianco e questo è il nero della stessa marca e adesso procederò alla verniciatura ora mi sposto di là e procediamo questi sono i lavori che sto effettuando nel bagno come vedete ho riverniciato praticamente un pochino anche le pareti della doccia e sto facendo ora attualmente il pavimento quindi questa è solo la prima mano ora appena si asciugherà darò la seconda mano e poi vedremo il risultato finale questo è il risultato della seconda mano quindi già sembra abbastanza uniforme questa è praticamente la quarta mano la quarta mano per fare in modo che si asciughi ecco ho dovuto dare il tempo per farlo asciugare e ho dato una ripassatina anche dentro il box doccia come potete vedere poi non so se farò un'ulteriore modifica di mettere eventualmente dei led là sopra internamente alla doccia ma quello sarà un altro lavoro non oggi perché non ce li ho tra le altre cose e ora passerò l'ultima mano e vediamo il risultato Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Appena finito questo è il lavoro ultimato eccolo qua come nuovo un bel bagnetto tutto come nuovo bello rimbiancato e risistemato qua qua ho riparato con la vetroresina i soliti gretti che si formavano diciamo sul pavimento quindi ho fatto anche quel lavoro sistemando con la vetroresina io con questo vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto e che di avervi dato un'idea magari di un lavoretto da fare la domenica quando non ci avete nulla da fare quindi ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti